Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ci ritroviamo dopo stamattina. Ho postato il pagellone della 32esima giornata di Serie A da 0 a 10, vi invito a recuperarlo. Oggi però cambiamo pagina, andiamo nelle Coppe Europee e infatti vi porto i miei pronostici della Champions League, dei quarti di finale di ritorno, vediamo quali saranno le squadre a passare alle semifinali. Dopo il mio video uscirà un altro del mio collega e fratello del calcio Guglielmo che vi porterà i pronostici della Conference e dell'Europa League con piccole analisi sulle italiane per integrare il tutto. Scorsa settimana ho fatto 3 su 4 prendendo anche la X a Real City e spero almeno di uguagliare questo risultato e perché no di fare 4-3 su 4. Partiamo subito con Barcellona-Paris Saint Germain, il mio pronostico è quello di X2 più o meno e mezzo. Non so se basterà il risultato di stasera al Paris Saint Germain per passare ma tra le due squadre io mi sento che in questa partita il Paris Saint Germain non perda, mi aspetto che salga in cattedra Kylian Mbappé e conseguenzialmente mi aspetto appunto un pareggio o una vittoria, non di certo una sconfitta e in linea teorica credo che passerà il Paris Saint Germain, ho questa sensazione, nonostante andare a giocare in casa del Barcellona sapete tutti che è molto difficile e difficilmente vediamo dei ribaltoni lì da quelle parti ma questa è la mia sensazione e poi penso che la partita comunque avrà più di un gol quindi ripeto X2 più o meno e mezzo. Accanto vi porto le quote di riferimento per chi fosse amante dei pronostici. Seconda partita andiamo con Borussia Dortmund, Atletico Madrid, voglio essere un po' più cauto su questo match perché non ho una chiara idea di come andrà a finire, penso che passerà l'Atletico però lo vedo un po' da tripla anche, quindi diciamo menesco con un under 3,5, non quotato molto perché penso che l'Atletico comunque andrà lì con un atteggiamento molto difensivista, chiuso, ciò che ci ha abituato insomma a vedere finora, un po' quello che ha fatto forse anche a San Siro contro l'Inter quindi insomma un under 3,5 mi sembra la scelta giusta. Andiamo avanti con Manchester City Real Madrid, una partita meravigliosa per gli amanti del calcio all'andata con gol rimonte contro rimonte per le tecniche pazzesche, è stata tanto di spettacolo all'andata perché non esserlo anche al ritorno quindi un semplice e puro gol e vediamo insomma quale delle due andrà avanti, mia personale opinione vi sto dando anche la squadra che passa il turno oltre al pronostico passerà il Manchester City, però ecco penso che entrambe le squadre segneranno almeno una rete. Ed infine Bayern Monaco Arsenal 1 secco. Per me il Bayern andrà in semifinale di Champions League a discapito di un Arsenal che forse tutti diciamo prima di questa, prima dell'andata davano per favorita, io mi sentivo il Bayern Monaco a priori, vediamo se avrò ragione o meno, però credo che proprio per il campionato aberrante che sta facendo il Bayern Monaco, considerando che comunque hanno una squadra forte, piena di belle individualità, credo che con l'atteggiamento giusto, se seguono anche Tuchel che di certo non è l'ultimo degli scappati di casa nonostante stia facendo male, penso che possano comunque continuare a dire la loro in questa Champions, magari non vincerela, però andare avanti sì e in casa con il proprio pubblico li vedo favoriti. Detto questo fatemi sapere la vostra, lasciate un commento, iscrizione al canale, attivate la campanella, per noi è straimportante e ci vediamo al prossimo video.